Un altro tema importante è quello dell'antincendio boschivo, le emergenze abbiamo visto quest'estate purtroppo ci sono state e forse un po' di confusione si è creata anche per l'accorpamento delle funzioni, la forestale che non c'è più, ma qual è la situazione? Sì, a seguito dell'annullamento totale del corpo della forestale siamo andati in crisi. Il sistema antincendio boschivo della regione Liguria era uno dei migliori a livello nazionale anche riconosciuto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Si basava molto sulla collaborazione con il corpo forestale dello Stato, chiaramente non esistendo più questo corpo abbiamo dovuto rivedere l'intero sistema regionale. Le funzioni sono passate ai vigili del fuoco con i quali abbiamo un rapporto, stiamo cercando di lavorare da diversi mesi per arrivare ad una convenzione, ad un protocollo che ci permetta di bypassare questo problema e quindi di riorganizzare il sistema basandolo sui vigili del fuoco. Ora, i vigili del fuoco hanno spesso collaborato con la regione Liguria per gli incendi di interfaccia, cioè gli incendi che erano vicino alle case, però mai nel bosco. Quindi abbiamo dovuto anche rivedere tutto quello che era l'organizzazione anche del volontariato stesso, che è sicuramente fondamentale in questo passaggio. Ora stiamo cercando di definire la convenzione, il protocollo con i vigili del fuoco. Stavamo cercando con il collega Gian Pedrone anche di organizzare una sala unica di protezione civile regionale a Genova, quindi accorpando la protezione civile e l'antincendio boschivo. E questo sicuramente con un unico interlocutore, che sono i vigili del fuoco, dovrebbe risultare più semplice. Ora siamo ancora in trattativa, perché comunque dovremmo riconoscere un contributo economico ai vigili del fuoco, come lo facciamo con la forestale. Quindi stiamo trattando. Nel frattempo noi possiamo dire che il sistema, a gennaio, che è stato super oberato di lavoro, ha retto. Abbiamo capito ulteriormente quanto è importante la presenza dei volontari formati e competenti, però ci siamo resi conto anche della fragilità di questo sistema. Ci hanno voluto colpire al cuore. Il primo giorno in cui il corpo forestale dello Stato non esisteva più, ma abbiamo fatto sintesi anche con i carabinieri forestali, con tutte le forze di polizia, con tutti gli uomini che avevamo su campo. Il sistema, dicevo, ha retto ed ora dobbiamo solamente formalizzare una convenzione.